musica 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 ok benvenuti ragazzi io sono jesus e oggi ripetiamo come chiave star force 3 black ace ok oggi dobbiamo semplicemente andare a scuola per sentire tutti che clamano a luna yeah no scherzo dai un po' sono felice per me poco poco visto che abbiamo tempo perché non parli un po' con tutti perchè devo parlare con tutti non ci sbagli ecco dovevo parlarci due volte ma perchè musica musica ah mi sono stiracchiato un po' mentre il mister sciampare inizia la lezione e poi si risolve in questo modo musica musica perchè non volevi risolvere questo problema ma perchè chiamare lui sempre questo diventa così e così è sbagliato bud devi svolgerlo così come funziona questo diventa così ma come se prendi questo poi ah è troppo complicato russa davvero bud si è messo a sveglia bud ahahah ahahah ok ragazzi finito c'è perchè non rispondi alla domanda dal posto di bud? oh cavolo che culo ci sono wizards fuori controllo all'ingresso della scuola è troppo pericoloso perciò nessuno esca dalla classe insegnanti tenete da con gli studenti ci sono dei wizards fuori controllo? che se non ho perlentine andiamo ragazzo ti seguo ma io non posso uscire sono uscito ok non ho salvato non ho salvato non ho salvato non ho salvato we got a problem i haven't got save i haven't save voi due fermatevi ok se vi parlano una lingua ma sconosciuta che stanno facendo? sono entrambi fuori controllo cosa vuoi che faccia? se continuano in questo modo la scuola potrebbe di nuovo essere distrutta non penso che gli insegnanti gli studenti prendere potrebbero sopportarlo ancora non vi permetterò di rifare una cosa simile mega! e vai! è l'ora del cambio d'andame trascolifica mega vai! gya 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 emelisi gya bene voi due provateci con me no no ho salvato gya 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 che bei discorsi no giuro ok si l'ultima parte è la più chiara stiamo scherzando due in una sola volta due in una sola volta due in una sola volta sono fottuto efni e ai fottuto aiilie aiaiii aiaiaiaiaiaa aiaiaiaiaiaiai Io non posso distruggerlo Oh come la... Guarda come lo prende Ma che cavolo sta a fare Ah fantastico lascia il loot Ok ragazzi avremo l'opportunità di provare il role 2 E no invece no perché ho failato male E pazienza capita molto Vieni qua Ok nemico mi è dato 400 zeni Ma cos'è? Fatto crimson ho fatto Quello è crimson E sta volando via Quel crimson chissà dove sta andando Non ne ho idea Vuoi seguirlo? Non è un'htv idea Ma è già troppo tardi Ah una chiamata dalla polizia satela Ah una chiamata È la polizia satela Megaman abbiamo un problema Tutti gli wizard di Lektopi sono andati fuori controllo Cosa? C'è un... C'è dietro il dialer? Non c'è stato ancora a funfermato Non c'è stato ancora a funfermato Ad ogni modo Non sono state rivelate tracce di ricarte rumore Sembra che un'insolita quantità di rumore sia la causa dei problemi In questo momento tutti gli agenti disponibili sono diretti nei luoghi In cui sono stati avvistati gli wizard impazziti per fermarmi Saremo lieti che se un membro del commando ci lasse una mano Vorresti versarci l'assistenza? Naturalmente Dove volete che vada? Abbiamo ricevuto un rapporto di wizard che si comporta stranamente allo spiccamento Spiccamo? Vado evidentemente Grazie a me Continuiamo su di te Quindi gli wizard sono di nuovo fuori controllo eh? Così sembra Lektopi è sul barato di una crisi Ad è quanto pazzesco È quanto pazzesco che così tante parti di Lektopi vengono attaccate insieme Abbiamo l'incarico di proteggere lo spiccamo Andiamo Megan Questo messaggio per tutti i membri operativi della polizia di Satella Gli wizard fuori controllo stanno causando ingenti danni dall'Ectopia Per impedire ulteriori danni devono essere fermati tutti gli wizard fuori controllo È davvero un incidente su vasta scala Bello Più sono cattivi Più curi da prendere a caccia Abbiamo una conferma di tre aree di risordini dentro lo spiccamo Tre? Wow Tre aree? Meglio muoversi Strano Cosa c'è? Sembra che finalmente tu la stia piadando di pianigolare sul fatto che tu non ti piaci lottare E di come vorresti tanto stare nella larda Finalmente hai capito quanto sei divertente a lottare? No, non è questo Non ho capito per quanto riguarda la lotta Vorrei starmi fuori Ed è giusto perché? Non riesco a capirmi molto bene Quando vedo Ace che fa quello che fa Sento il bisogno di fare come lui Lui sacrifica il suo corpo e rischia la sua vita lottando per poter far sì che tutti siano sicuri E combatte per proteggere chi ama Anch'io voglio proteggere chi ama E se dovrò lottare allora che sia Gli umani sono davvero delle creature complicate, vero? A questo mondo c'è gente che desidera altamente proteggere la terra Mentre esiste l'altra gente che vorrebbe darla alle fiamme Ma viene una rabbia quando penso che c'è gente che vuole distruggere tutto Sono solo buoni per essere presi a cacci Ah ah, non cammini mai in mega Che credo... Credo che sia difficile per qualcuno fantastico smettere di essere Ah ah ah, immagino che tu abbia ragione Perfetto, è tempo di fermare questi wizard impazziti Sono contento Ok Fermiamo gli wizard impazziti Anche se non ho la minima immissione idea di dove siano Ma posso parlargli anche sciaramente? Se li posso parlargli da me a medesimo? E mi dice di trasformarli Ragazzi sono alto, cammino da me Ok, sì Devo farlo, non posso parlargli Maledizione, questo tipo è totalmente fuori controllo Credo che non ci lascia altra scelta Diamoci dentro Ok Che bello, li amo tanto gli opi questi Oh cazzo, sbagliato Oh, Dino Wave Boom, 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 bridge 500 ciparangeli, ma contenta Fa sempre Crimson, notate? C'è Joker sicuramente E' il suo piano in qualche modo Non so, e sta raccogliendo Crimson Giusto a verità Ok ragazzi, ma cerchiamo gli altri Nel prossimo episodio Quindi se lo io non ci lascio il tuo commento Mi piace, iscrivimi E noi ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi C'è, c'è ragazzi No, guarda C'è in parte da me Ma perché è influenzato da me Mi fa, mi fa davvero No, ti sto piuttosto per lì E' in parte 2 Eh, si sa mai 2 Sai, magari ci sono certi Che fanno bene 2, però a me piace fare la spada Posso farmi la spada 200 zombie No, facciamo un piccolo encadale Eh, ma ne ho solo 2 Appena trovo il terzo Mi dico 6, ma negozio 4, ma negozio 8, ma negozio